la caccia per in diretta questa è una volta molto negativa senza lavato è sfiammato il signore scusami, passa per andare bravo 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 silenzio bravo 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 indiretta 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 possibilmente non poke silencio innanzitutto potevamo ringraziarvi perché si fa Ce lo invitiamo tutti, poverino, noi tutti. Tifosi meravigliosi, come voi. Poi abbiamo, Max vi darà una comunicazione informale. Mentre siamo onorati e lieti di invitarvi stasera a fare una pizza da viaggio con le famiglie, tutti quanti voi. Per Fergia, Bada, per l'alcol vi accompagneranno Vittorio. Io stappo bottiglie, vai! Quattro, Quattro, Quattro!